Nel 2019 una famiglia media ha speso per la propria casa tra acqua, elettricità e combustibili 140 euro in più rispetto all'anno precedente. Aggravio che sfiora i 150 euro se si considera un nucleo con due figli. Di contro per le comunicazioni la famiglia Tipo ha risparmiato 57 euro, risparmio che raggiunge gli 80 euro se si considera una coppia con due figli. E' quanto evidenziano Codacons e consumatori italiani che hanno analizzato voce per voce i dati diffusi dall'Istat relativi all'andamento dei prezzi nel 2019. L'anno che si è da poco concluso con la sua inflazione allo 0,6% ha determinato una mini stangata da più 185 euro annui per la famiglia Tipo e più 243 euro per un nucleo con due figli, a parità di consumi e considerando la spesa mensile per consumi delle famiglie fornite dall'Istat. Non tutte le voci che compongono il paniere spiegano Codacons e consumatori italiani sono però cresciute allo stesso modo. Ad esempio per vestirsi una coppia con due figli ha speso lo scorso anno appena 7 euro in più rispetto al 2018, grazie ai prezzi quasi fermi nel comparto abbigliamento e calzature. La stessa famiglia ha però pagato 31 euro in più per mangiare fuori e consumare pasti in bar e ristoranti. E se crolla la spesa per le comunicazioni, per muoversi e spostarsi, tariffe e prezzi in aumento dello 0,8% hanno prodotto un maggiore sborso di 44 euro su base annua. E' andata bene per l'alimentazione, voce che assorbe il 18% della spesa annua delle famiglie. Per mangiare una famiglia tipo ha speso appena 44 euro in più rispetto al 2018, aggravio che sale a 61 euro per una coppia con due figli. Si spende di più per andare al ristorante ma c'è da riflettere sul fatto che le spese per la cultura e le attività ricreative registrano un meno 2 euro e quelle per l'istruzione un più 2 euro.